Da Passo Mario a Lignano, 176 km sulla sua handbike, eccolo qua, Katia Ere, 97 fatti, quindi Katia, tappa Spidimbergo, nella tua Spidimbergo, qui sei a casa, infatti tante persone, tra cui il vice sindaco, eccolo qua. Passato al giro di Boa, com'è andata? Oggi giornatina calda. Ma guarda, è andata splendidamente, non mi sono neanche accorta di aver fatto quasi 100 km, poi arrivare nella mia città con la mia gente, quindi è bello, è bello, sono felicissima, è stato veramente un volo semplice fino a qua e sono sicura che sarà semplice anche arrivare al mare. Se puoi pensarlo, puoi farlo e tu lo stai facendo alla grande, ti restiamo a riposo e alla prossima tappa. Io l'ho pensato, lo sto facendo, sono sicura di farlo e niente, è carburante, questo è carburante vero e proprio che mi dà forza per andare e sfidare obiettivi sempre nuovi, quindi ci vediamo Lignano.